Musica Voltiamo pagina e incontriamo una giovanissima attrice, volto amato veramente da tutti, che con il suo talento si sta facendo veramente sempre più strada nel mondo dell'arte. È nata a Napoli ed è cresciuta all'ombra del Vesubio, classe 2003, fin da piccolissima, è attratta dal fascino del teatro e del cinema. Oggi facciamo quattro chiacchiere con un'amica di Mattina Live, Maria Sone Di Maio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie. Come stai? Bene, 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 sto bene, sono a Napoli, quindi sono felice. Con Roma, vivendo a Roma si sente un po' la nostalgia napoletana, quindi è sempre un'ottima scusa per ritornare. Esatto. Allora, nel 2021 sei entrata nel cassa di Un Posto al Sole interpretando Speranza Altieri. Come sei arrivata a far parte della soppa più amata dell'Italia? Eh, guarda, è stato molto normale. Cioè, noi attori facciamo i provini e poi a volte li vinciamo, a volte no. E sono stata molto fortunata a vincere quello di Un Posto al Sole perché, chiaramente, come dici tu, è una delle soppe più amate d'Italia. È la soppa più longeva italiana. È un grande vanto produttivo per la Rai di Napoli, quindi è sicuramente un privilegio far parte di quel cast. Possiamo dire che sei la speranza di tutti i napoletani e gli italiani a ora di cena, lo diciamo, la figlia, la nipote, la sorella. Sì, sì, sono diventata un po' un membro delle famiglie napoletane, quindi sono entrata nelle case degli spettatori. Poi è bellissimo questo rapporto che si crea perché quando poi esci dal set e magari incontri qualcuno, qualche spettatore per strada, qualche fan, cioè ci si abbraccia perché ci si vede tutti i giorni. C'è questo rapporto molto intimo perché ci si vede praticamente sempre, quotidianamente. Ma che cosa ti accomuna con il tuo personaggio? Ma guarda, sicuramente siamo coetane, quindi l'età è un fattore. Entrambe siamo studenti universitari, Speranza studia veterinaria, io studio cinema, quindi abbiamo le sessioni che sono protagoniste della nostra quotidianità e della nostra vita. Sono più fortunata rispetto a Speranza perché Speranza comunque ha un padre, una famiglia particolarmente patriarcale, quindi lei ha seguito tutto un filone anche molto femminista perché ha lottato contro il volere del padre, ha fatto rispettare il suo sogno, i suoi obiettivi, quindi è sicuramente una bella storia da raccontare che vale la pena anche far vedere perché anche soltanto per il fatto che andiamo in onda quotidianamente, io quotidianamente ricevo feedback magari sul mio profilo Instagram dallo spettatore che ha visto la puntata e spesso e volentieri ricevo messaggi da ragazzine che hanno avuto problemi con i genitori o comunque sulla scelta universitaria. Quindi empatizzano. Esatto, empatizzano col personaggio, in qualche modo si ispirano o trovano un modello anche per far valere in qualche modo il loro sogno. E' interessante, no? Eh sì, e poi è il ruolo dei media, cioè del mostrare dei modelli che possono essere anche ispirazionali e in questo un po' sto al sole chiaramente avendo il vantaggio di essere quotidiano e quindi di poter mostrare anche quante più sfaccettature possibili della realtà diventa interessante come impatto sulla società. Ma c'è qualcosa di speranza che proprio non sopporti? Ma guarda, ultimamente c'è un po' questa cosa che il mio fidanzato mi ha messo le corna con Micaela, quindi lei è molto succube di questa situazione e io sicuramente non avrei reagito così, cioè non sarei mai stata vittima di questa dinamica. Quindi sicuramente quando leggo quelle battute che lei è un po' avvita e tutto ti strappano proprio i schiaffi dalle mani, come si dice in Napoli. Maria Sole, questo personaggio ti ha regalato sicuramente tanto successo e popolarità, come ben dicevi prima. Come gestisci questo rapporto con il pubblico? Ma non lo gestisco, nel senso che comunque studio all'università, la mia vita quotidiana è veramente sui libri a casa, poi certo c'è l'evento, esci, c'è l'intervista in televisione, però ecco non ho mai subito il successo, la popolarità è sempre una cosa molto normale, forse perché ho cominciato da piccola. Esatto, perché tu hai esordito in tv veramente da piccolina, poi hai esordito nella serie, nella nuova squadra, Spacca Napoli, al cinema, nel film Il diario di Carmela. Quando hai capito che la recitazione era veramente la tua strada? Quando mi hanno dato una borsa di studio, quindi qualcuno ha deciso di investire al posto mio. È molto concreta. Sì, no, è perché ho sempre vissuto la recitazione come un hobby, avendo cominciato da piccola, spesso non so, dalle elementari, medie, liceo, mi ricordo che la domenica c'erano i ragazzi che andavano la domenica a fare la partita di calcio, chi aveva la gara di nuoto e io magari due giorni andavo in Sicilia o a Milano o a Roma a girare la pubblicità, a fare quelle tre pose sul set Rai, però è sempre stato un di più, un hobby. Quando però è arrivato il film Il diario di Carmela, quindi col primo vero ruolo da protagonista, rispetto magari ai altri piccoli ruoli, comunque sei un bambino, sei un adolescente, non c'è l'occasione, effettivamente sono pochissime le occasioni per avere un ruolo effettivamente importante in una produzione. E quando a 16 anni è arrivata l'occasione del Diario di Carmela e quindi di un intero film, della responsabilità di un intero film, lì il lavoro è stato diverso. Cioè ho capito effettivamente, ho messo a frutto gli anni di studio e poi ho capito che cosa significava fare l'attore, essere un attore. Hai partecipato con orgoglio al Giffoni e parlare con i Giffoners richiede comunque una forte responsabilità. Che messaggio vuoi trasmettere, giovani? Non lo so, perché sono giovane anch'io, quindi ancora non l'ho capito. C'è un messaggio che dovrei dare poi anche a me stessa. È una domanda che spesso mi viene fatta, perché poi quando sei, diventi un personaggio pubblico in qualche modo hai una responsabilità. È soltanto forse di essere solo più attenti e consapevoli. Credo che siamo in un momento, in momenti molto veloci, in cui restare attenti a quello che succede, avere cognizione di causa, di cosa succede nella nostra società, anche di dinamiche, forse anche non troppo larghe, anche di dinamiche molto vicine, di che cosa succede alla persona che mi affianco, probabilmente si è andato perso perché siamo presi dal ritmo frenetici del social, del video, di quello che c'è qui, tant'è che me lo porto addirittura qui, di quello che c'è qui e non di quello che c'è attorno. Qua, esatto. Quindi forse questa è... Sì. Hai interpretato finora sia personaggi articolati affrontando dei temi sociali, ma anche i ruoli popolari. Ti vedi più proiettata in questo momento nel mondo del cinema, in futuro, o nella serialità? Non lo so, nel senso che sono una giovanissima attrice, quindi non credo di essere ancora nella fase della mia carriera, anche se mi piacerebbe di poter prendere delle decisioni così nette, e cioè decido di... mi piacerebbe fare cinema, voglia. Cioè decido di fare soltanto cinema e di non fare serialità, però non posso, perché comunque è un lavoro, quindi non sono ancora in quella fase della mia vita, sto provando, sto studiando cinema, produzione, mi piacerebbe fare nella mia quotidianità cinema perché mi piace di più il film. Quindi hai una piccola preferenza. Sì, però ci sono anche tanti prodotti seriali validi. Adesso dipende, dipende perché si combinano molto alcune cose, cioè non è più netta, secondo me, la differenza tra il cinema, il film per il cinema e la serie. È vero. Perché ci sono tante serie che sono dei film che durano però tante ore. Quindi vediamo, vediamo anche come va il mercato. Proprio sul finale, proprio così, al volo. Cosa consiglieresti a chi vuole seguire le tue urme? Studiare. Studiare perché io ho cominciato da piccola, quindi sicuramente c'era del talento in qualche modo, ma senza lo studio, che non è tanto lo studio tecnico, cioè è anche lo studio tecnico, ma è anche più uno studio consapevole, cioè di che cosa significa essere un attore, fare l'attore o poi in altri modi, di fare produzione, di cercare anche di allargare il campo e non restare soltanto sulla recitazione, che è quello che sto provando di fare. Quello che mi ha aiutato di più è lo studio, cioè la conoscenza del mio settore, di questo mondo, di come funziona. E' un messaggio importante per chi appunto vuole intraprendere questa strada lavorativa. Noi ti ringraziamo veramente per essere stata in nostra compagnia stamattina a Mattina Live. Grazie a te, grazie a te per avermi accolta. Quindi Maria Sole Di Maio, noi ci vediamo tra pochissimo, dopo la pubblicità, rimanete con noi. Grazie a tutti.